E se poi si guasta qualcosa? La scelta dell'auto non deve essere un trauma. Marco Sortino Service è specializzato nella vendita di Audi e Volkswagen, sia nuove che usate. Puoi rivolgerti a noi anche per l'acquisto di ricambi. E grazie alla nostra officina all'avanguardia, i tuoi problemi li risolviamo noi. Marco Sortino Service. Da noi puoi dormire sonni tranquilli. Grazie a tutti.